Quello che state per vedere è solo una delle tante meraviglie italiane che fortunatamente sono arrivate a noi ancora intatte. Il mulino Pestasassi di Nove, gioiello di archeologia industriale, il più antico d'Europa nel suo genere. Da 370 anni viene fatto muovere dalle acque della Brenta ed è ancora oggi perfettamente funzionante. Tutto ciò grazie alla famiglia Stringa che l'ha conservato e valorizzato con passione negli ultimi 45 anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo mulino fa parte della nostra storia. Non dimentichiamolo. Non dimentichiamolo. Non dimentichiamolo. Non dimentichiamolo. Grazie a tutti